Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico della mobilità in Toscana in questi minuti. A cominciare dalla 1 dove troviamo coda per traffico in uscita a Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna. Stessa situazione in A11 tra Chiesino Azzanese e il Vivio con la 1 in direzione Firenze. Fipirinca ha lo 2 km la coda per lavori tra Empoli ed Empoli Est ancora una volta verso il capoluogo. Sempre verso Firenze, code a tratti tra Ponte della Ovest e Montopoli-Valdarno. 1 km di coda con tendenza all'aumento tra Interporto Toscano-Ovest e Interporto Toscano-Est e code a tratti tra La Strassigna e Firenze-Scandicci. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze al via quest'oggi 29 luglio i nuovi lavori PNRR su via Bolognese. Si è interessato questa volta il tratto compreso tra il civico 102B e l'incrocio con via di Montughi escluso. Oltre alla chiusura stradale, ripercussioni anche sul TPL. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città meropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!